Cosa rischi se il tuo cane continua ad abbaiare e infastidisce i vicini? Tu pensi che il tuo cane possa fare come meglio crede? Vediamo in questo nuovo video dello studio legale Candiani che cosa ne pensano i giudici a proposito di questa situazione. Da molti anni ciclicamente la Cassazione si pronuncia in merito agli animali che disturbano il riposo delle persone. La tutela in questo senso è di doppia natura, di tipo civilistico e di tipo penalistico. La Cassazione ha ritenuto con una sentenza del 2017 responsabile un padrone di animali per il reato di disturbo del riposo delle persone per non aver impedito al cane di abbaiare continuamente anche nelle ore notturne e precisando che per integrare il reato di cui è l'articolo 659 del codice penale è sufficiente l'idoneità della condotta del cane, quindi dell'animale, ad arrecare il disturbo ad un numero indeterminato di persone e quindi non essendo necessario che effettivamente il cane crei disturbo. Quindi basta il concetto di idoneità. Se il comportamento del cane è tale da generare disturbo, si incorre nel reato in questione. Con un'altra sentenza, sempre dell'anno 2017, la Cassazione si è occupata del caso di una donna ritenuta colpevole per il reato sempre di disturbo a riposo delle occupazioni delle persone perché non aveva in alcun modo impedito ai propri cani di abbaiare, latrare di giorno e di notte e disturbando così i vicini di casa. La Cassazione in quel caso ha ritenuto valida la prova raccolta nel giudizio di merito e consistita nelle testimonianze rese da numerosi soggetti che avevano confermato come i cani di proprietà della donna erano soliti abbaiare di giorno e di notte con grande frequenza in modo da disturbare il sonno delle persone vicine e quindi sostanzialmente è stata ritenuta sufficiente e idonea una prova per testimoni. Con un'ulteriore decisione, la Cassazione ha precisato che l'intensità delle emissioni sonore può essere ricostruita anche mediante deposizione di numerosi testimoni i quali in quel caso avevano riferito che il latrato dei cani era particolarmente assordante e quindi superava quelli che sono considerati i limiti di tolerabilità. Però con un'ulteriore decisione del 2018 la Cassazione ci dice che non c'è il reato se oltre a chi sporge denuncia non vi è nessun altro che si lamenti e questo argomento viene confermato anche con una pronuncia successiva dell'anno 2019. Conseguentemente si genera un filone giurisprudenziale che dice in sostanza ai fini della tutela penale non è sufficiente che ci sia un soggetto che si lamenta ma occorre che effettivamente il disturbo arrecato dagli animali in questo caso dal cane sia indeterminato e quindi si manifesti verso più persone e non soltanto nei confronti di chi se ne lamenta con una denuncia. Come abbiamo già visto in un altro video su questo canale secondo la giurisprudenza il rumore si intende non tollerabile quando il luogo che subisce le emissioni di rumore quindi diciamo l'appartamento vicino subisca un incremento di rumore pari a oltre 3 decibel rispetto al rumore di fondo quindi come già dissi in quell'occasione si valuta e si misura il rumore di fondo dell'ambiente si valuta poi il rumore generato dai cani e se questo rumore supera di 3 decibel il rumore di base siamo in presenza di una emissione intollerabile. una decisione di merito ha poi detto che la emissione di rumori quindi abbaiare di cani continui di giorno e di notte che non sia occasionale ma comunque frequente e ripetuta fino a tarda ora indipendentemente dalle misurazioni effettuate non possa che essere considerata intollerabile e quindi soggetta ad essere punita. in ambito civile la sentenza che qui andiamo a esaminare è messa quindi poco tempo fa nell'estate del 2022 è importante perché stabilisce il diritto delle persone disturbate dai latrati dei cani ad ottenere il risarcimento del danno e quindi al di là della condanna penale eventuale per il disturbo al riposo delle persone qui si genera una questione di risarcimento dei danni e la Cassazione ha confermato in quel caso quindi in questo caso che stiamo esaminando la sentenza di merito che aveva condannato il proprietario del cane ad un pesante risarcimento a favore del vicino che a causa degli ululati del cane non riusciva più a riposarsi quindi ha dimostrato di non essere in grado di concentrarsi al proprio lavoro ne ha subito una malattia e a seguito delle assenze per malattia ha perso il posto di lavoro dimostrata la conseguenza tra un fatto e l'altro quindi la catena di eventi la Cassazione ha confermato che il proprietario del cane doveva risarcire il danno in conclusione possiamo dire che il rischio maggiore che si corre quando non si tengono a bada i propri animali non sarà tanto quello di una condanna penale che poi generalmente si traduce in una piccola multa ma quello di andare a dover esarcire il danno delle persone disturbate danno che come abbiamo visto nel caso appena deciso dalla Suprema Corte può essere anche molto rilevante perché comporta lunga malattia e addirittura la perdita del posto di lavoro il consiglio quindi che possiamo darvi è tenete a bada ben a bada i vostri amici e se avete delle difficoltà è senz'altro opportuno frequentare un corso di addestramento che non serve solo per addestrare il nostro cane ma serve anche per addestrare noi e a imparare come fare a gestire i nostri animali nei momenti di difficoltà bene, spero che questo video vi sia stato utile come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale vi invito anche a commentare se avete delle domande grazie e alla prossima grazie a tutti